Il cippato come nuova frontiera dei biocombustibili. Si ricava dagli scarti del legno, la tempesta vaia e il bostrico ne hanno creato molti, con costi contenuti. Il cippato è rimasto sui prezzi intorno, in funzione della qualità, passano dai 50 euro alla tonnellata fino ai 130 euro alla tonnellata. Aiel rappresenta la filiera del riscaldamento a biomasse legnose con un centinaio di aziende nel Triveneto. Un risparmio rispetto ai combustibili fossili e molti vantaggi per l'economia locale. La materia prima viene presa localmente e viene utilizzata localmente, quindi con un doppio se non un triplo guadagno di carattere economico, diretto ed indiretto. Le caldaie a cippato sono già molte nel Triveneto. Luxottica, la casa di riposo di Valdobbiade, nei comuni di Seren del Grappa, Sovramonte, Alleghe e Roccapietore. Ma anche i privati stanno utilizzando questi impianti per i quali è prevista una caldaia centralizzata. Arriva il tubo di acqua calda, è a 85-90 gradi e c'è un contacalorie, loro pagano le calorie che consumano. E hanno un beneficio di un credito di imposta di 22 euro da detrarre già subito in fattura. E le emissioni? Come emissioni siamo 50 volte sotto il limite di legge, fra impianti e cippato buono.